Chen Ziying e Tsai Miaotsu sono studentesse del Taipei Physical Education College e artiste della Taiwan Acrobat Association. Si distinguono a livello nazionale nella disciplina del diablo. Insieme formano una coppia di giovani talenti che questa sera cattureranno la nostra attenzione con un numero dinamico e coinvolgente. Per Taiwan in rappresentanza della Acrobat Association Ziying e Miaotsu. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.